Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti sul canale di Rision, sono Lo Sconosciuto e bentornati nel nostro canale. Oggi torniamo con una nuova recensione di un film che attendo da davvero tanto tanto tempo. Si tratta infatti di una pellicola del 2016 per la regia di Gareth Edwards, un film appartenente al brand, diciamo, al filone cinematografico di Star Wars. Il titolo di questo film è appunto Rogue One a Star Wars Story ed è il primo dei tre spin-off previsti per questa saga. Come sapete il progetto dei film futuri di Star Wars, iniziato l'anno scorso con Star Wars Episodio VII e Risveglio dalla Forza, prevede tre film che continueranno la saga principale e poi altri tre spin-off riguardanti altre storie, film più o meno a se stanti che riguardano altre storie dell'universo di Star Wars. Senza perderci in chiacchiera il film, mi è piaciuto davvero tanto e proprio per questo farò una recensione dove cercherò di essere più breve e coinciso possibile, prendendo solamente i punti principali senza perdermi in chiacchiere magari un po' inutili. Come sempre ci sarà la parte spoiler e la parte no spoiler, metterò il minutaggio e metterò il solito segnale a video. Iniziamo quindi la parte no spoiler. La pellicola è una buona pellicola in via generale, ha però dei piccoli difetti che vi vado subito a elencare. La parte iniziale può risultare un po' lenta, ma non lenta che annoia, ma un lento dovuto proprio al fatto che il film deve ingranare e spiegare molte cose. Poi ovviamente dopo anche i primi tre quarti d'ora di film il ritmo diventa molto più incalzante, ma ripeto questa prima parte non annoia. Ci sono poi delle ripetitività all'interno di alcune dinamiche della storia e soprattutto un po' di ripetitività per quanto riguarda certe scene. Questo fattore non dà eccessivamente noia, però alla prima scena ti esalti quando vedi lo stesso tipo di scena, che ne so, per la terza o quarta volta, un po' meno rispetto a prima. È un piccolo difetto del film. Soprattutto la ripetitività c'è in alcuni tipi di inquadrature. Per il resto non ho trovato niente che mi desse realmente fastidio. Sono piccoli difettucci che non inficiano la bellezza generale del film. Sono delle cose che dal punto di vista tecnico magari potevano essere riviste, ma se vai a vedere il film in una maniera molto tranquilla non ci farai neanche caso. Quindi voi penserete che io stia gridando al capolavoro. Non è così. È un film che fa il suo dovere. Non ha particolari difetti, ma allo stesso tempo non è neanche un capolavoro. È semplicemente che è un film che compie a pieno il suo dovere. E ha dei pregi che lo fanno apprezzare in una maniera davvero incredibile. Incominciamo a parlare della prima cosa che si nota all'interno di Star Wars, o meglio la colonna sonora. È una colonna sonora che richiama molto lo stile di Star Wars, però comunque cambia. Le musiche e i temi cambiano aggiungendo un po' più, diciamo, di varietà e di cambiamento rispetto ai classici temi musicali a cui siamo abituati. Ci sono dei piccoli richiami. Ha la classica sigla di Star Wars e altre musiche che abbiamo già ritrovato nei film, ma sono giusto piccoli richiami. In generale, quindi, la colonna sonora sa mantenere lo stile, ma anche rinnovarsi. Parliamo invece adesso della regia. È una regia che, anche essa, compie il suo dovere. È una regia ottima, che è adatta in tutti i tipi di scene. Combattimento, dialogo, tutti i momenti, diciamo, sono ben caratterizzati. È una regia che ha anche, comunque, una sua impronta personale. Scene di combattimento sono ben girate, qualche volta, in alcuni tratti, ma proprio piccoli, sono magari leggermente confuse, però in generale sono gestite bene. È una regia a cui piace molto l'inquadratura a campo largo, inquadrare dall'alto, soprattutto nelle scene di combattimento. E questa è una cosa buona, perché ovviamente dà proprio quell'idea di una battaglia terribile, con bombe, sparatorie, e vista dall'alto dà proprio quell'idea di guerra, quindi persone che sono puntini e che stanno morendo lì per combattere, per un qualcosa. È proprio una regia a volte a far capire la portata e la drammaticità degli scontri. Sono molte le scene di grande portata e spettacolarità visiva, proprio dal punto di vista dell'impatto visivo. Con quanto riguarda la scenografia, ovviamente, è fatta molto bene, nel classico stile di Star Wars, viene rispecchiato e ripreso in maniera efficace. Ci riporta a mondi già conosciuti, luoghi già conosciuti, e anche altri luoghi nuovi, ma ognuno con la propria caratteristica e con la propria particolarità, proprio come è sempre stato all'interno dei mondi di Star Wars. Ricordano proprio bene le atmosfere, quella galassia lontana, lontana, che già abbiamo cominciato a conoscere nei film precedenti. Gli effetti speciali sono davvero spettacolari e ti fanno dire cavolo, è vero. Sia la CGI che gli effetti speciali, tutto, sono realizzati talmente tanto bene che sembrano reali. Ci sono pochi momenti in cui ti rendi conto che effettivamente sono effetti speciali. Sono di una realisticità incredibile, ancora di più di quello che avevamo visto in Risveglio della Forza. E questo ovviamente riporta al mondo di Star Wars ancora più in vita. Di quanto eravamo abituati agli effetti speciali dell'epoca, o comunque dei film precedenti, buoni, ma ovviamente con gli effetti speciali degli ultimi anni si è fatto un passo incredibilmente in avanti e in questo film si nota davvero bene. Gli ambienti interni, le astronavi, i costumi dei personaggi, le case, le abitazioni, tutto è costruito bene per i costumi, per la scenografia, effetti speciali, tutto ben amalgamato e ci riporta proprio nel mondo di Star Wars, ha proprio quella caratteristica visiva che rispecchia in tutto e per tutto le caratteristiche del mondo di Star Wars. Parliamo adesso della trama. La trama di questo film è una trama semplice, però molto funzionale. Non ha particolari colpi di scena, non ha particolari complicazioni, però comunque è accattivante e intrattiene, ovviamente non annoia mai. Spiega tutto molto bene, non lascia mai dubbi, ovviamente non lascia spazio ad altri seguiti o altre possibili storie, perché comunque si ricollega poi, come sapete, a episodio 4. È una trama che, anche se noi sappiamo già l'esito, perché appunto è una specie di prequel, oltre che uno spin-off di episodio 4. Comunque riuscirà a tenerci preoccupati nel sapere come andrà a finire, nonostante alla fine il finale generale lo sappiamo, però comunque ti incalza a seguirla e ci sono i momenti appunto di pathos in cui non sai come andrà a finire, sei preoccupato magari per cosa sta succedendo ai personaggi. queste cose non mancano, nonostante effettivamente si sappia già come poi andrà a concludersi. Il punto di congiunzione con episodio 4 è conosciuto, però comunque ti importa di sapere cosa succede ai personaggi e come ci siamo arrivati alle vicende di episodio 4. È una trama che mostra finalmente il lato della ribellione, quello più vero, quello più basso, non più le principesse, i jedi e le alte sfere, diciamo, della ribellione, ma bensì il lato più nascosto che finora non avevamo ancora visto. Fatto di persone che combattono per un ideale, persone magari sconosciute all'interno della galassia, non ai livelli di Skywalker o di Leia o di chiunque altro, Han Solo, eccetera, eccetera, ma comunque persone che fanno la differenza. Sono persone che combattono per un ideale cercando di farlo in un modo giusto, moralmente giusto, ma non sempre questo è possibile, perché in tempo di guerra bisogna fare anche delle scelte davvero difficili che possono compromettere la propria moralità. Però se le si fa per uno scopo, che è appunto come quello di liberarsi dell'impero e ottenere la democrazia, la repubblica, allora forse possono avere una giustificazione. Uomini che muoiono a centinaia come formiche per combattere per un ideale, per un principio. Diciamo il vero lato del fronte, quello spinto di una voglia di giustizia e rivalsa per tutta la galassia, la popolazione della galassia. Le persone rappresentate sono persone normali, con un grande coraggio e una spinta morale. Niente spade laser, millennium falcon, robe assurde, semplicemente blaster e tanta voglia di riscatto e di libertà. Vediamo chi c'è appunto dietro ogni grande vittoria della ribellione, vediamo chi c'è che lavora nel piccolo, però comunque ha la sua importanza. Vediamo proprio dietro le quinte della ribellione. I personaggi sono caratterizzati abbastanza bene, non eccessivamente, però comunque reggono molto bene la storia. Il personaggio principale è appunto quello di Jean Herso, scusate, interpretata da Felicity Jones. L'attrice comunque regala una buona performance, è un personaggio che appunto ha sofferto, che però pian piano avrà una crescita e riacquisirà degli ideali che credeva ormai non servissero più a niente. Ha uno sguardo da dura, sa quello che vuole, è capace di trascinare le persone, di convincerle, però ovviamente anche ha subito molte sofferenze, proprio questo suo essere forte è dovuto a sofferenze del passato. Diego Luna invece interpreta Cassian Andor, ovviamente leggo perché non mi ricordo tutti questi nomi, ce n'è una marea, è il personaggio che rispecchia tutti i valori, gli ideali della ribellione di cui vi ho parlato appunto prima, è proprio il personaggio che li incarna e che ce li porta, e ce li spiega a noi spettatori. Ci sono poi altri personaggi come ad esempio il cinese che si vede anche nella copertina insieme a quel suo amico con quel cannone gigante attaccato dietro la schiena, che sono molto importanti, però non vi dico niente perché sarebbe un po' spoiler, poi c'è il droide di turno che comunque diverte, ci sono altri personaggi secondari comunque abbastanza importanti, caratterizzati un minimo, che comunque rendono bene all'interno della storia. in particolare il cinese e il suo amico danno una chicca importante che però, cioè vi lascerà sicuramente contenti, però poi ve la posso dire solo nella parte spoiler. Mi è piaciuto molto il personaggio di Mad Mikkelsen, che non vi dico chi interpreta, anche se in teoria si dovrebbe sapere, come in Doctor Strange il suo personaggio non ha un forte rilievo, in Doctor Strange per un altro motivo, qua ha un forte rilievo dal punto di vista dell'importanza del personaggio, ma non ha tanto spazio. Però comunque l'abilità di Mad Mikkelsen è proprio di rendere, di dare nota al personaggio anche se lo interpreta per poco, infatti la sua interpretazione mi è piaciuta molto. E poi ovviamente il suo personaggio è di un'importanza incredibile, qui non vi dico niente, però davvero, cioè è uno a livello di trama, ha un ruolo davvero importante per tutta la saga, non solo per questo film. C'è poi il personaggio interpretato da Forrest Whitaker, non so come si pronunci, comunque quell'attore di colore che anche nel trailer, comunque appunto nel film, vedremo comunque l'armatura strana, è un personaggio, e questa forse è un po' un'altra piccola pecca del film, che secondo me andava approfondito in una maniera più seria. Ci viene proposto un po' così e sembra un po' macchiettistico, un personaggio un po' stereotipato, la cosa non dà eccessivamente fastidio, però si sente quel bisogno di magari qualche scena aggiuntiva per spiegare e caratterizzare un po' di più il personaggio. All'interno di questo film il fanservice c'è, però non è forzato. È un fanservice involontario, semplicemente il mondo di Star Wars è in so stesso il fanservice. Ci sono delle piccole scene, dei piccoli camei, fatti apposta per dare appunto fogo alla voglia dei fan di ricordare i vecchi tempi, però sono fatti bene, sono fatti per ridere, così come la comicità è inserita bene, anche se il tono del film è molto più cupo e serio rispetto al solito. È un film molto più adulto, non il classico Star Wars, si vedono anche comunque scene di violenza, non eccessiva, però comunque non è un film proprio adatto per i bambini. Ha un'atmosfera, è un tipo di storia molto più adulta. Aeris, Stormtrooper, caccia imperiali, Stark Destroyer, c'è tutto quello che ci si può volere all'interno di Star Wars, ovviamente inserito in tutte le varie scene di combattimento, combattimenti aerei, eccetera, eccetera. Finalmente si vedono bene i generali dell'impero, c'è appunto il comandante Tarkis, scusate, il governatore Tarkis, che era quello che appunto si vedeva in episodio 4, questo ovviamente è stato riprodotto in CGI, riprendendo l'attore, che mi sembra tra prentesi sia morto, compare poco, è fatto bene, io non l'ho notato, l'ho sentito dopo la visione del film sul web e sono rimasto valordito perché è fatto davvero bene. Ci sta quello che era in episodio 4, un po' quel classico generale che sta ai comandi dell'imperatore, eccetera, eccetera. Ovviamente poi c'è un altro personaggio interpretato a Ben Mendelssohn, che è appunto il generale Orso Krennic, è quello che si vede vestito di bianco. Mi è piaciuto come l'hanno messo perché finalmente si capisce un po' il retroscena di questi generali e il retroscena dell'impero dove ci sono comunque di sidi interni, dove ognuno ha paura del superiore però allo stesso tempo tenta di scavalcarlo. Ma ovviamente poi tutti hanno paura di lui, di Darth Vader. Si capisce anche un po', diciamo che questi personaggi non sono solo dei generali cattivi, punti e basta, hanno comunque anche un po' le loro debolezze, diciamo le loro insicurezze. Questo personaggio è molto viscido, vuole affrontare una scalata sociale, vuole mantenere il proprio potere, però allo stesso tempo succube dei suoi fallimenti e allo stesso tempo è anche molto cattivo, molto cinico e vuol far di tutto pur di mantenere il suo potere. Quindi finalmente si vedono proprio il retroscena dell'impero. questi generali erano un po' macchiettistici negli scorsi episodi precedenti, invece adesso si vede un qualcosa di più. E la cosa mi è piaciuta, l'interpretazione del personaggio da parte dell'attore è comunque molto buona, così come la sua caratterizzazione. La forza all'interno del film c'è. C'è, si sente, ci sono dei piccoli accenni ma molto importanti e soprattutto ne faranno vedere un lato che ancora non si è visto, il lato più umano, non solo la forza dei Jedi ma la forza che regola tutto l'universo in cui chiunque può credere. Non dico niente per non entrare nello spoiler. Non parlo dei vari Kamei di cui si sa o comunque non si sa perché non voglio dirlo che magari qualcuno non ha visto proprio tutti i trailer anche se in teoria è una cosa che si sa. Non dico niente, vanno bene così, ci stanno, compaiono per il giusto tempo e sono fatti bene. Basta. Il film non è un capolavoro però merita. Unisce la novità con la tradizione di Star Wars e questo lo fa in una maniera davvero perfetta. Il suo punto di forza è l'aspetto calarità visiva, l'impatto dal punto di vista visivo e soprattutto della caratterizzazione, della rappresentazione del mondo, delle guerre stellari. Da un punto di vista un po' più spensierato, con un parere un po' meno obiettivo, posso dire che mi è piaciuto molto di più di Episodio 7. è molto più Star Wars di Episodio 7. Diciamo che mi sono piaciuti entrambi per ragioni differenti, però questo l'ho apprezzato proprio così a livello spassionato, come parere spassionato, e a livello passionale mi è piaciuto molto di più questo Star Wars, o meglio, questa Star Wars story intitolata Rogue One. Quindi ragazzi, finiamo qua la parte non spoiler e iniziamo adesso la parte spoiler. Quindi per chi ancora non ha visto il film, mi raccomando, fermatevi qua. Quindi iniziamo. Spoiler, spoiler, spoiler! Sarò sempre coinciso in questa parte, però un po' più colloquiale, perché le cose che ho da dire non sono tantissime, quindi procediamo. Prima parlavo della ripetitività delle scene. Sono un po' ripetitive, all'inizio soprattutto, ed è quello che dà un po' quella lentezza, che però non è una vera e propria lentezza, ma come se il film aspettasse di partire. Comunque dicevo che ci sono troppe scene ripetitive del tipo mostriamo il pianeta dall'alto, la navicella che arriva sul pianeta, presentazione del pianeta, inquadrature dall'alto, eccetera, eccetera. Ce ne sono 4-5 buone all'inizio. Diciamo che alla prima ti stupisci, all'ultima non più. Però, cioè, di meno, perché comunque poi visivamente sono delle belle scene. Però per il resto non c'è niente da dire. Per quanto riguarda il padre di, appunto, di G. Nerso, interpretato da Matt Mikkelsen, mi è piaciuto, sia come è stato interpretato, e anche il personaggio. Perché appunto rappresenta un po' con la storia, vabbè, non ve la sto a ripetere, perché appunto, se siete qua, più o meno, la sapete già, rappresenta proprio quel personaggio che agisce anch'esso dietro alle quinte della ribellione e che, nonostante sia costretto a fare un qualcosa, dall'impero, cerca sempre, in tutti i modi, con un grande coraggio, una forza di volontà, diciamo, di trovare una scappatoia per aiutare la ribellione, nonostante sia nelle grinfie dell'impero. E questa cosa mi è piaciuta, mi è piaciuto il suo personaggio e ovviamente la cosa più importante è che finalmente danno una spiegazione alla falla della morte nera. Fai una macchina così grossa e ci metti un punto debole. Adesso finalmente è spiegato il perché di questo punto debole. Si capisce proprio la sua sofferenza di questo personaggio e il fatto che gli hanno portato via la figlia, gli hanno portato via tutto, ma comunque in lui rimane forte la voglia di distruggere e far cadere l'impero. Il cameo di Darth Vader, Darth Vader, bello, come è stato fatto, la voce, si sente che il doppio attore ha i suoi anni, però proprio forse per questo cambiamento di voce sembra quasi più giovane la voce. Magari sembra un po' dar fastidio ma comunque poi ci si passa sopra perché è Darth Vader in tutto e per tutto come si comporta, quello che fa, compare proprio quel giusto per non essere né troppo poco né un cameo che appunto dura troppo. Il personaggio è ben fatto, cioè alla fine ci vuole poco a interpretarlo l'importante è la voce perché comunque quello che fa non è niente di che. Il cameo quindi comunque è abbastanza utile per il fanservice ok, però alla fine ci stava ma soprattutto utile questo cameo per vedere un altro aspetto del generale Krennic quello vestito di bianco per farci capire, per intenderci perché fa vedere appunto all'inizio ce lo presentano come un generale che voleva scalare diciamo avere più potere e si capisce proprio qual è il limite da cui lui è diciamo è frenato appunto il potere e la forza di Darth Vader. Come dicevo i generali finalmente non vengono solo strozzati da Darth Vader ma hanno comunque un loro dialogo e un diciamo un po' più di caratterizzazione. È ben caratterizzata del generale Krennic la sua paura verso i capi come dicevo ma anche la sua voglia di progredire e la sua aspirazione al potere. In generale Tarkin come è fatto perfetto sempre duro al servizio e quello un po' più macchiettistico ma ci sta alla fine. Belle le scene fantastiche le scene della morte nera che distrugge i due posti dove colpisce con quella esplosione che viene piano piano proprio a simboleggiare una distruzione immensa e davvero potente e poi la scena delle due navi che si rompono una contro l'altra per distruggere lo scudo anche quella davvero di un aspetto che è incredibile gli effetti speciali veri veri bello l'escamotage con cui hanno riportato diciamo tutto episodio 4 con il cameo di Leia giusto tanto per fatta in CGI è bello proprio che si ricolleghino perfettamente quasi come se un minuto dopo potesse iniziare episodio 4 tutti i personaggi muoiono ci rimani malissimo ci rimani malissimo però ci sta la cosa ci sta perché fa proprio capire che tu ti sei affezionato a questi personaggi meno male hai capito la loro importanza però muoiono così muoiono distrutti dall'immenso potere della morte nera oppure comunque per altri motivi come alcuni altri personaggi è una cosa che secondo me hanno fatto bene a farla perché appunto non lascia aspirargli per eventuali seguiti però ti fa proprio capire come queste persone così importanti per quello che succede all'interno della ribellione e le loro vittorie muoiono nel dimenticatoio e non vengono ricordate come magari vengono ricordati Skywalker Leia e tutti gli altri non solo eccetera il cieco e il suo amico con il cannone laser davvero una coppia efficiente ci fanno vedere finalmente quel lato della forza che ancora non abbiamo visto un lato appunto più umano un lato la forza è un qualcosa che circonda tutti quindi non solo i Jedi possono crederci possono praticarla il cinese appunto fa di questa sua fede nella forza un suo punto di forza scusate il gioco di parole i Jedi ne sono i massimi conoscitori e disponenti ma chiunque può crederci all'interno del film viene ripetuta più volte diciamo il motto che la forza sia con voi che la forza sia con te e mi è piaciuto che finalmente hanno fatto vedere questo lato più popolare per quanto riguarda le persone normali e non per forza i Jedi che possono credere nella forza e ne fanno un loro punto saldo è una forza che attraversa tutto l'universo e chiunque ci creda può venire aiutato da lei come appunto il cieco che mi è piaciuta molto la scena in cui lui fa quel gesto eroico ripetendo la forza e con me con la frase di quando non mi ricordo tutta bene perché proprio faceva credere che qualcuno lo potesse aiutare che l'universo la galassia è dalla parte dei buoni e poi appunto lui va ad attivare quella specie di generatore non si capisce bene quella cosa lì che fa sì poi che possano mandare il messaggio e continuare appunto con l'istruzione e l'invio dei piani della morte nera e mi è piaciuto appunto che lui muore in quel modo e mi è piaciuto che anche il suo amico muore in quel modo riacquisendo un po' quella fede nella forza che sembrava all'inizio aver perso era un po' quello più cinico dei due e davvero questa cosa mi è piaciuta tantissimo sono contento che abbiano portato questo concetto di forza all'interno del diciamo di questo nuovo film simpraticissimo il droide di cui adesso non mi ricordo il nome bello anche il cameo di D3BO e C1P8 e il droide appunto di protagonista di questa di questa pellicola è comunque simpatico un po' più una simpatia un po' più cinica un po' più da adulti però comunque mi è piaciuto come come le sue battute sono ben poste e anche lui muore cioè hanno fatto proprio crepare tutti ragazzi in questo film è incredibile ci sta però davvero ti lascia proprio un'amarezza alla fine forse dopo D3BO è quello più simpatico di di droide meglio di C1P8 di BB8 di tutti i click abbiamo visto forse questo viene solo dopo il nostro droide dorato preferito poi c'è questo e poi tutti gli altri la morte del padre di Ginerzo appunto il personaggio di Matt Binkles è un po' scontata la sua reazione non viene gestita bene perché comunque ti è morto il padre sembra che non è successo niente cioè si capisce che non hanno avuto tempo di approfondire la cosa però secondo me potevano gestirlo in una maniera un po' diversa poi ti dico non succede niente però secondo me potevano fare un po' meglio avrei resa un po' più drammatica poi ovvio va bene così cioè non succede niente bene io ho finito le cose da dire vi ringrazio per avermi seguito fino ad adesso andatevi a vedere tutti gli altri video che stiamo facendo sul canale sono davvero entusiasta di questo film contento non vedo l'ora di vedere episodio 8 per vedere come andrà avanti la storia solo spin off di un solo sinceramente io di vedere di nuovo un solo non sono tanto contento avrei preferito avessero fatto vedere dell'altro vedremo un po' poi come tratteranno magari la trama perché poi alla fine è quello l'importante cosa succede all'interno del film io vi ringrazio ragazzi per la vostra attenzione un saluto un saluto dal canale di Dizion dallo sconosciuto noi ci vediamo in un prossimo video e che la forza sia con voi di Dizion